Contact Tunes, Contact Tunes, Contact Tunes, Contact Tunes, 1, 2, 3, 4, Contact Tunes. Bentrovati amici di Rete Calabria, è il nostro graditissimo ospite Santo Verducci, è un doppiatore, cantante, è un manager perché ha realizzato un'azienda che sta camminando a passo anche spedito in un settore di cui adesso partiremo. Santo Verducci è qui su Rete Calabria con il suo prodotto che si chiama Contact Tunes, ci spiega cos'è questo prodotto? Allora è un format televisivo per ragazzi che è nato appunto dalla crisi televisiva che c'è stata in questo campo negli ultimi anni. È un prodotto fresco, divertente, che dura 10 minuti in totale, più all'interno ci sono varie serie televisive di cartone animati. Parliamo a 360 gradi, ci rivolgiamo al mondo dei ragazzi, quindi parliamo di videogame, cartone animati, moda, sport e musica. Siamo i cinque conduttori, siamo una sorta di supereroi che arrivano da questo mondo parallelo che è Contact Tunes, che è nata dalla fantasia dei bambini. E allora abbiamo dei nomi inventati, tipo il nome dell'elemento, io rappresento Fire, il fuoco, poi c'è Rosò, Lucta, acqua, terra, aria ed energia. E abbiamo avuto un grosso riscontro nella cultura italiana per questa trasmissione televisiva che fa da contenitore a tante tante serie televisive di cartoni. La tv dei ragazzi è un must della televisione italiana, mi sembra che il suo caso, il progetto che lei sta portando avanti da cinque anni, vada un po' in controtendenza rispetto a quella che è un po' la storia di questo settore nell'ambito delle grandi reti. La tv dei ragazzi non è finita con anche l'ingresso di grandi piattaforme come può essere quella di Mediaset o quella di Sky, però trova degli spazi in realtà regionali come quelle nelle quali lei opera attualmente. Sì, allora la tv regionale è un tessuto importante e non va a scemare o a morire perché logicamente le persone, come dicevo poc'anzi, che i bambini vanno a cercare il cartone animato, non vanno a guardare se è nazionale o è regionale, se gli piace la serie televisiva la va a guardare, a differenza dell'adulto o degli investitori pubblicitari. I canali televisivi purtroppo che ci sono adesso hanno una capacità economica abbastanza ampia, sono internazionali, mondiali, però sono molto ripetitivi, ovvero un canale televisivo nazionale presente adesso nella fascia 40, 47, 48 nel nostro digitale trasmettono le stesse puntate da dieci anni, quindi logicamente sappiamo che il pubblico va ad allontanarsi perché vuole vedere altro, allora hanno la capacità di budget, hanno la capacità di visibilità ma non di contenuti, noi invece abbiamo la capacità di poterci rinnovare all'interno di serie televisive perché il nostro format può essere barra mezz'ora, un'ora, due ore e quindi possiamo cambiare le serie tv, quindi è un vantaggio che tanti canali nazionali anche a livello di costi non riescono più a supportare come prima, visto la crisi anche del mercato del giocattolo che bene o male è quella che finanzia di più le reti private da questo punto di vista, è andata a calare, la nostra potenza sta innanzitutto nella passione, nella voglia che abbiamo di crescere e di formare questo tipo di trasmissione televisiva e poi anche dal fatto che siamo spinti da tantissimi fan che ci scrivono e che veramente seguono la trasmissione televisiva, noi siamo dell'idea che i like come si dice per esempio sui social network non vanno comprati ma vanno acquistati nel senso che è veramente dall'affetto delle persone, ci sono per esempio dei like fasulli che poi non portano a nulla, noi invece ci piace la genuinità del rapporto che si ha con il pubblico da questo punto di vista. Pochi ma buoni. Pochi ma buoni. Sato Verducci è un giovane imprenditore calabrese di Reggio Calabria, ha studiato, poi a 18 anni è andato via per studio, immagino a Milano e a Milano è riuscito a coronare questo suo sogno di questo progetto che è diventato un progetto concreto. Com'è nato? Ma è nato innanzitutto dalla passione che ho avuto sempre per i cartoni animati, che l'ho trasformato in un lavoro e da lì ho iniziato pian piano a fare il corista per vari cantanti e poi da lì un giorno sono capito a uno studio di doppiaggio di Cologno Monzese, il direttore, bravissimo, che ha creato proprio una fucina dei cartoni animati, specialmente delle reti medio, mi disse ma ascolta perché scrivi le canzoni essendo cantautore per gli altri? Inizia a cantare anche tu. Poi da lì mi ha introdotto anche nel mondo del doppiaggio con alcuni cartoni animati famosi che sono stati trasmessi in varie reti televisive nazionali e poi da lì mi sono messo in proprio perché ho detto io punto tanto sui giovani, scrivevo anche per una testata, un magazine dedicato al mondo dei cartoni animati, infatti grazie al vantaggio che avevo di doppiare vedevo i cartoni animati molti anni prima che andassero in onda, molti mesi prima, non c'era la crisi editoriale quindi il giornalino vendeva tantissimo questo giornaletto qui e da lì ho iniziato a introdurmi in questo mondo quindi a iniziare a capire determinate situazioni per poter arrivare a creare contact tunes, poi da lì logicamente essendo cantautore acquisivo tutti i diritti televisivi quindi cambiavo le sigle, ho cambiato tante sigle che erano di Mediaset come Denver, Danny che combina guai, la signora Minou, i diritti per tutta l'Europa e abbiamo fatto uscire anche dalla nostra trasmissione televisiva un merchandising, una linea profumi, i DVD della signora Minou e ogni anno esce un mio compad disc che racchiude tutte le sigle che escono ogni anno, sigle nuove. È un progetto che quindi mette insieme, miscela tutto quello che poi è il contenuto diciamo della produzione di anime, diciamola alla giapponese, voglio dire c'è il contenuto del prodotto, frutto della passione del disegnatore però c'è anche la musica perché molte sigle televisive di queste serie, per quello che mi pare di capire, in altre realtà in altri contesti, soprattutto sul mercato asiatico, hanno un valore quasi pari all'anime stesso. Sì, ci sono cantanti, allora da noi c'è la cultura che il cartone animato è per bambini non è così, ci sono tanti colleghi doppiatore e cantanti all'estero che sono alla stregua di Laura Pausini per il Giappone perché cantano le sigle dei cartoni animati, sono proprio dei big qui invece noi che siamo bistrattati, però dice è una canzone per bambini, non è così perché dietro al mercato siglesco ci sono tantissimi autori, partendo da Goldrake, gli stessi autori che hanno scritto per Mina, per Celentano, per tanti altri e logicamente la sigla del cartone animato, la versione italiana, perché alcune sono state tradotte, invece li faccio ex novo come tanti autori o cantanti delle sigle precedenti a me, hanno dato successo a una serie televisiva che magari si ricordava la canzone ma non si ricordava il cartone animato o viceversa Uno degli ultimi lavori che ha fatto per i quali è rimasto particolarmente soddisfatto? Allora innanzitutto è stato Transformer perché ho cantato la sigla, ho avuto l'opportunità anche di inserirla nel Transformers The Movie, una serie degli anni Ottanta, ho avuto anche l'onore di dare la voce a Galvatron, il cattivo di Decepticon e dirigere la serie di 33 puntate di cui tre inedite, delle Transformers Rebirth, che i fan italiani cercavano quindi questa è stata una delle... poi vabbè tutto il pacchetto sari, ho cantato la sigla di Hello Kitty, ho fatto il doppiaggio di Impariamo l'inglese con Hello Kitty e ho dato voce a tantissimi cartoni animati e personaggi che ce li ho proprio nel cuore perché mi diverte tanto il mondo del cartone animato, anche se è più difficile doppiare un cartone animato che un essere umano perché il cartone animato ha i labiali e non ha l'espressione, quindi deve portare all'esasperazione il personaggio per poterci entrare da questo punto di vista, con fronte all'umano. Mi pare che sia un settore non relegato in un ambito, perché quando andiamo a parlare chiaramente di Transformers, quando andiamo a parlare di altri tipi di produzione soprattutto io ho fatto riferimento alla grande produzione giapponese, nipponica, asiatica, c'è anche un mercato in Corea con autori di anime e manga molto famosi che hanno preso piede anche in Italia, si va a parlare di un contesto mondiale. Come si è rapportato relativamente a questa necessità di dover colloquiare, dialogare con realtà di altri continenti? Allora c'è stata una difficoltà inizialmente perché i giapponesi sono un po' schivi, purtroppo in Italia come tanti imprenditori hanno un po' tra virgolette truffato i giapponesi negli anni 80, perché non c'era con la comunicazione che c'è adesso tramite internet, quindi un controllo maggiore. Ci sono state tante serie piratate, tra cui, vabbè, non mi metto a elencare, perché sono tantissime, quasi tutte, perché venivano vendute a Londra, invece adesso ci sono i contatti diretti. Però sono riuscita a aprirmi questo bacino, questa strada, finché sono diventato un rappresentante italiano di una grossa società nipponica, che gestisce titoli abbastanza forti, tuttora trasmessi in rete nazionali. Da lì loro quando vedono la qualità del lavoro, che una persona sa lavorare, è come se ti mettono il tappeto rosso, perché si affidano ciecamente da questo punto di vista. L'apertura col paese asiatico mi ha dato anche un orgoglio perché, come ho detto prima, io ho i diritti della signora Minuga, un cartonimato giapponese, anche se l'autore Alf Preussen, che è svedese, tratto dai suoi romanzi, e la mia sigla televisiva è stata trasmessa anche in Giappone, in onore perché gli è piaciuta tanto la sigla italiana che abbiamo creato, quindi hanno fatto degli speciali televisivi con la nostra sigla italiana e con il nostro doppiaggio italiano, che dico la verità, si può dire tutto, ma in Italia il doppiaggio migliore è il nostro, confronto a un paese spagnolo, tedesco o francese. Lei parlava dell'interattività, c'è ormai la capacità di comunicare direttamente con il proprio pubblico, quanto prendete dai suggerimenti che vi arrivano dai ragazzi o dagli adolescenti che seguono il vostro programma? Guardi, quasi tutto, perché logicamente ci chiedono delle sere che hanno cura di cose sorbitanti, logicamente, perché quando noi andiamo a acquisire, se c'è un doppiaggio audio già fatto, ha dei costi molto inferiori con fronte a un doppiaggio ex novo che si va a fare o una serie nuova, però prendiamo di tutto, le analizziamo e vediamo quello che riusciamo a fare, esempio, tanti ci hanno scritto di creare nel reparto musica la biografia dei cantanti, oltre come si scrive una canzone, abbiamo fatto la parte degli strumenti, come che funziona uno studio di registrazione, allora gli abbiamo detto, va bene, facciamo le biografie dei cantanti, perché ci sono tanti fan che gli piace vedere che con Tactons parli dei cantanti, tanti che ci scrivono, parlate, farete uno speciale su Goldrake, per esempio, che adesso ritorna in auge, prossimamente in tv e anche in DVD, questa serie televisiva di successo, quindi creiamo questi special. La novità che c'è con Tactons è che noi mettiamo in replica anche le puntate, perché sono stati strutturati in un modo come se fosse un'enciclopedia, che dà informazione, quindi uno la può vedere non a noia, ma anzi da curiosità, da questo punto di vista, perché parliamo di modi di tutto il mondo, siamo imparziali su questo, non abbiamo parzialità del parlare, parliamo dai film, tratti dai cartoni animati, dalle serie, oltre manga anche americane, perché hanno avuto tutto questo successo, come Marvel o DC Comics. Cosa state preparando per la prossima stagione televisiva? Per la prossima stagione televisiva iniziamo le biografie, continuiamo con i cartoni animati, adesso una tv regionale che dicevo lombarda, c'è un nuovo cartone animato, piccola dolce nell'arriverà anche Starblazer, che è di Leiji Matsumoto, ovvero lo stesso autore di Capitan Harlock, abbiamo preso i diritti di tutti i 78 episodi, ci sarà una mia nuova sigla all'interno e stiamo vedendo che abbiamo un grande riscontro, come l'abbiamo avuto in tutti questi cinque anni. Abbiamo acquisito un nuovo pacchetto di cartoni animati, quindi avrò molto da fare, che guarda dal punto di vista delle sigle, perché ho creato dei testi ma ancora li devo musicare, perché è sempre così, poi magari cambia la parolina, cambia la cosa, insieme ai miei collaboratori che creiamo arraggiamenti, quindi ci destreggiamo da questo punto di vista. Però siamo fiduciosi che anche qui su Rete Calabria avremo lo stesso successo che abbiamo avuto al nord, perché secondo me il cartone animato unisce tutta la famiglia, anche gli adulti, anche se un po' si vergognano, io non guardo i cartoni animati, poi appena sentono una sigla e iniziano a cantarla, perché tutti siamo cresciuti. Come dicevo in un'ospitata, tempo fa dicevo Lady Oscar, ho imparato la rivoluzione francese grazie a Lady Oscar, non grazie ai libri di scuola, quello è poco ma sicuro. Ci sono degli spunti che possono dare poi l'idea o comunque aiutare anche i ragazzi di adolescenti che possono avere un contatto non brillante con la storia o con altre tematiche del nostro vivere quotidiano e del nostro passato, di ciò che ci appartiene, però attraverso il filtro dei cartoni animati succede anche questo. Si ha l'idea di cosa sia la rivoluzione francese, la rivoluzione americana, i grandi fatti della storia. Relativamente alle musiche, che mi pare un argomento che ha molto a che vedere come dicevo anche prima con questo settore, rispetto a quella che è la sigla originale, quanto interviene lei poi sul testo e sulle musiche? Io proprio li cambio totalmente, nel senso che il Giappone ha già un linguaggio che è totalmente diverso, perché l'inglese bene o male lo sappiamo, parlare ha un ideogramma diverso, una cultura diversa. Ci sono cultori della lingua giapponesa in Italia che dicono guai a toccare le sigle dei cartoni animati e degli anime, però noi ci rivolgiamo anche a un pubblico più giovane, che logicamente è strano a questo tipo di cultura e di lingua. I giapponesi musicalmente sono bravissimi, non c'è nulla a fare, anche se copiano molte cose da noi italiani, specialmente a livello dance. Loro parlano di certe situazioni all'interno del cartone animato, magari in Piccolo Dolcenello, La signora Minou, parlo sia della protagonista che spiego la storia, perché mi piace un po' allargare oltre il testo. Da lì io mi baso sul cartone animato, suono pianoforte, quindi inizio a musicare, vedo la storia, preferisco avere l'anteprima della puntata per capire bene di che cosa sto trattando. Per esempio mi hanno proposto Usana, mi hanno mandato solamente una foto del personaggio e quattro righe di quello che era, su quello ho dovuto fare la sigla. È difficilissimo. Quando feci Deni che combina guai, che la prima sigla fu cantata da Cristina d'Avena, che era molto ripetitiva la sua, dicevo, quando iniziavo a scrivere ho detto caspita, è certo che è ripetitiva, perché questo bambino combina solo guai, per 50 puntate e basta, non è che abbia una storia dietro di grande importanza. Però poi magari sono quelle sigle che sono tra virgolette più stupide, che hanno più successo. Per esempio più usana e allegra, stile Zecchino d'Oro, ha avuto un grande successo. Le pensi che tramite Locchitti sono entrati in classifica in nona posizione sotto Shakira, in Australia in classifica. Infatti la mia casa distributrice mi chiama e mi dice se è in classifica nella top ten, ma dove? In Australia. E questo conferma quello che dicevo. E conferma perché ormai con l'interattività, con internet, il mondo è così vasto e magari pianto un semi in Italia ma poi si sviluppa all'estero. Io conosco tanti ragazzi che vincono disco d'oro, disco di platino all'estero e in Italia non sono conosciuti. Quindi c'è un mondo così grande ancora da scoprire che secondo me la cultura italiana si può sviluppare in varie posizioni e fronti da questo punto di vista. Ultima domanda, lei parlava di Cristina D'Avena che abbiamo conosciuto tutti come grande interprete di sigle televisive. Lei ha un modello? Allora, come modello spero di imitare me stesso da questo punto di vista. È Prezzo Cristina come i Cavalieri del Re, come Giorgio Vanni e tanti altri cantanti perché hanno fatto la storia. Logicamente tanti di loro hanno avuto la fortuna, a differenza mia, di nascere in un periodo in cui c'era o stampa o televisione. Quindi non penso che se nascevano in questo momento avrebbero avuto lo stesso successo. Magari anche sì, però lo metto un po' in dubbio visto la dispersione televisiva, la dispersione che c'è adesso tramite internet perché anche le nuove proposte fanno difficoltà a svilupparsi. Ci sono prodotti che nascono bene e proseguono perché hanno avuto un nome, non è detto che poi abbiano una qualità professionale, una qualità per poter andare avanti. A differenza di Cristina, sono cantautore, quindi mi scrivo testa e musiche, lei ultimamente, a quanto so, inizia a scrivere qualche testo, però logicamente il mondo dei cartoni animati deve essere sempre fresco e giovanile e ci deve sempre saper rinnovare. Quindi mettersi davanti un pubblico in un modo differente perché in Italia purtroppo c'è la cultura che se nasce in un modo ti devono vedere per 40 anni in quel modo. Secondo me no, io sto cercando di sforzarmi di fare un cambiamento, nel senso che mi vedono Santo Verduci cantante, fai il presentatore, però Santo Verduci è anche il doppiatore. E' difficile anche perché le tecnologie adesso corrono ad una velocità già non comparabile a quanto accadeva di anni fa. Poi i bambini sono legati ai videogame, non sono più legati al giocattolo, alla televisione come prima, quindi amano più il contatto diretto con il pubblico. Le dico, l'anno scorso sono stato ospite in una manifestazione in un centro commerciale del nord Italia, uno pensa a TV regionale, Lombardo non ti seguono in tantissimi, c'erano più di mille persone che seguono il contatto. Noi siamo rimasti proprio scioccati per vedere tutta quella gente presente per vederci. E' una grande soddisfazione perché magari tanti si basano sui dati Auditel, che poi a livello imprenditoriale, che lavoriamo in televisione da entrambi i lati, anche l'Auditel è un po' tra virgolette una fuffa. Quindi è una statistica che ha un suo perché, ma fino a un certo punto, dal mio punto di vista, perché il pubblico può seguire quel programma come non lo può seguire e poi è un riscontro totalmente diverso. Io ringrazio Santo Verducci per essere stato nostro ospite, noi lo rivedremo, voi lo rivedrete proprio sul nostro canale 19 di Rete Calabria con il suo Contact Toons e vedremo cosa Contact Toons ci offrirà nella prossima stagione tonnale. Grazie ancora di essere stati con noi e grazie a voi. Arrivederci.